18 perquisizioni effettuate, un centinaio di persone identificate, un arresto, 4 denunce e una segnalazione alla Prefettura. Questo è bilancio del progetto PUSCHER, il servizio di controllo del territorio, finalizzato dalla ripressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, voluto dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Polizia di Stato ed esteso a tutte le province. Il personale della squadra mobile dell'Aquila, del commissariato di Avezzano e del commissariato di Sulmona, nella scorsa settimana, ha effettuato in ambito provinciale numerosi controlli sia su strada che presso i locali pubblici e nei luoghi abituali di ritrovo dei giovani. Nell'ambito dei controlli è stato tratto in arresto un 25enne all'interno della cui abitazione, nella camera da letto, sono state rinvenuti circa 400 grammi di marijuana, di cui la maggior parte è contenuta in una pirofila da cucina in plastica e il resto già diviso in dossi, un bilancino di precisione e un coltello utilizzato per il taglio. Sono state denunciate in stato di libertà quattro persone, trovate in possesso complessivamente di 44,50 grammi di marijuana, 27,18 grammi di hashish e 1,04 grammi di cocaina, occultati sia nei capi di abbelliamento indossati che all'interno delle autovetture di proprietà. Nel corso dell'attività, inoltre, si è proceduto a segnalare alla locale prefettura due giovani assuntori, trovati in possesso rispettivamente di 0,16 grammi di cocaina e di 1,50 grammi di marijuana. Grazie.